Salve amici, buongiorno, benvenuti o bentrovati sul canale. Quest'oggi facciamo un'insalatona con frutta molto fresca e indicata per i periodi. Una nostra fantasia che spero che nel farvela vedere possa incuriosirvi e provarla. Fateci sapere poi se vi è piaciuta. Per questa nostra insalata abbiamo bisogno di questi ingredienti. Formaggio a striscioline, cetriolo, igui, pomodori tagliati a rontelle, milone e copomero rosso-ciallo, insalata verde con radicchio e del petto di pollo a fettine cotto che adesso noi andremo a tagliare. in questo modo qui, perché avremo la possibilità di poterlo inserire nella nostra insalata bella a pezzetti. diventa molto più comodo e molto più simbatico da vedere. Mi raccomando, bisogna cuocerlo solo con olio e sale. un petto di pollo, ecco qui. Allora, olio e sale, l'ho già detto, andiamo ad unire i nostri bei ingredienti. insalata verde, insalata verde, radicchio, aggiungiamo, aggiungiamo un pizzico d'olio, poi dove ne mettiamo dell'altro dopo, con il sale. e andiamo a dare già una prima giratina, così. Ecco qui, mettiamo il formaggio. pomodori. i cetrioli. ed ecco il petto di pollo fatto in padella. a questo punto andiamo a inserire il cocomero, il melone. e in ultimo andiamo a inserire il kiwi, che dà un bel po' di colore simpatico da vedere. aggiungiamo ancora un pizzico di sale e un filo d'olio. voglio ricordare che tutti gli ingredienti messi devono essere comunque tutti realizzati freschi dal frigo, altrimenti non abbiamo più la motivazione per il nostro bel piatto. Ecco amici, questa è la nostra insalata e l'abbiamo chiamata papadina. spero che vi piaccia. Ecco amici, la nostra insalata è finita, andremo a mangiarla godendoci di tutta la freschezza della frutta e delle verdure che abbiamo inserito, con le belle proteine anche del pollo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima pietanza. Ciao! 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 Ciao!